Anticipazione una vita martedì 16 luglio 2019 Cristina prova a scusarsi con Blanca che credendo di aver perso la sua bambina a causa della relazione peccaminosa instaurata con Diego Aldai non ascolta le sue parole. Servante continua in perterrito a svuotare la dispensa dei palacios approfittando della loro assenza. Leonor non sa come fare per convincere Celia e Susanna che Cristina Novoa non è chi vuol far credere di essere. Lo scandalo del bacio tra Paquito e Flora è ormai di dominio pubblico. Carmen è ormai presenza scomoda a Villaldai. Samuel rivela alla disenta qualcosa di molto compromettente. I due pianificano di sbarazzarsi di qualcuno al più presto. Grazie. Grazie.